A tutti coloro che si trovano in questo momento davanti allo schermo desidero porgere il mio saluto più cordiale unitamente all'auspicio di poter loro proporre qualche spunto di interesse relativo all'argomento che tratteremo. In primo luogo reputo doveroso presentarmi. Sono Alessandro Bolzana Mariotti Posocco, veneto di nascita e di tradizioni, giunto a Roma sin da bambino al seguito dei miei genitori. Nella città eterna ho frequentato le scuole di ogni grado, dalle elementari sino al liceo classico. Una volta superato dignitosamente l'esame di maturità, mi sono iscritto all'Università di Roma alla Sapienza ed ho ottenuto dapprima la laurea in ingegneria civile ed ile e poi quella in architettura. Per quasi 50 anni ho operato e tuttora opero come libero professionista. Da sempre appassionato di automobili, nel 1983, per celebrare il mio 35esimo compleanno, ho acquistato la mia prima vettura Ferrari. Era una 308 GT4, motore a carburatori da 3.000 cm3 di cilindrata, 8 cilindri, 255 cavalli. Per quanto a mia conoscenza, dopo un paio di passaggi di proprietà, è stata acquistata da un collezionista giapponese ed ora si trova nel paese del sollevante. Poco dopo, nel 1986, essa è stata sostituita con una 308 GTB 4 valvole, motore a iniezione 3.000 cm3 di cilindrata, 8 cilindri, 240 cavalli. Successivamente affiancata nel 2006, da una 550 Maranello, motore da 5.500 cm3 di cilindrata, 12 cilindri, 495 cavalli. Con queste due ultime vetture ho partecipato a svariati raduni di marca, tenutisi in ogni parte d'Italia, ed ho gareggiato, con alterne fortune, in molteplici competizioni di regolarità, giungendo nel 2008 a vincere il campionato italiano di regolarità Ferrari. Dopo aver stretto per circa 40 anni un volante con al centro l'emblema del cavallino rampante ed aver tagliato il traguardo dei tre quarti di secolo, di vita, ho infine deciso, sia pure a malincuore, di scrivere la parola fine alla mia attività agonistica e per non essere indotto in tentazioni ho alienato entrambe le vetture. Ora vi chiederete il perché di questa intervista. Al termine di una lunga conversazione nell'ambito di un incontro conviviale, allorquando l'amico Claudio Costa mi propose di registrare un video sul tema, ho subito accolto con entusiasmo la sua idea. L'entusiasmo si è poi accresciuto per due ben precise ragioni. La prima è data dal fatto che Ferrari è un nome famoso nel mondo, un nome che onora l'Italia, che dà lustro al Made in Italy e quindi rinverdire tale nome, anche se in maniera semplice come faremo nell'ambito di questo incontro a distanza, che io piuttosto preferisco definire come una chiacchierata tra amici e appassionati del cavallino, può costituire una salutare iniezione di entusiasmo ed uno sprone a procedere con rinnovato vigore verso importanti traguardi. La seconda è data dal fatto che l'argomento del quale tratteremo è uno di quelli che mi appassionano e dei quali amo sempre parlare. Prima di entrare nel vivo della conversazione però, ritengo doveroso fare una precisazione. Non sono né un tecnico né uno storico della Ferrari, ma solo una persona qualsiasi che ama la casa del cavallino e che, come detto prima, per circa otto lustri ha avuto il piacere e il privilegio di possedere e guidare vetture di questa marca. Ciò che dirò più avanti, quindi, potrà contenere qualche inesattezza o essere incompleto. Ne chiedo Venia a priori. A mio parere, non è possibile trattare della Ferrari automobili e delle automobili Ferrari senza fare immediatamente riferimento all'uomo che ha dato origine a questa leggenda, ad Enzo Ferrari. Un vero condensato di inventiva e di passione, di astuzia e di freddezza, dal carattere altalenante, tra slanci di autentica genialità e momenti di proverbiale scontrosità. Modenese, classe 1898, segno zodiacale acquario, Enzo Ferrari è figlio di Alfredo, un artigiano nel settore della carpenteria metallica con velleità di piccolo imprenditore. Studente non proprio modello, nel corso della sua vita ha più volte affermato di aver frequentato solo la terza industriale, cioè l'ultima classe della scuola professionale per la formazione degli operai. Rimane orfano in età adolescenziale e trova lavoro come garzone presso una piccola officina per la riparazione delle biciclette. Chiamato alle armi, prende parte alla prima guerra mondiale, svolgendo l'incarico di autista presso un reggimento di artiglieria campale. Al termine del conflitto ritorna alla vita civile e può dare libero sfogo alle sue quattro grandi passioni, la musica, le belle donne, i motori e la buona tavola, qui citate non necessariamente nell'ordine di importanza. Tenore di operetta a tempo perso, si dedica con sempre maggiore impegno alla meccanica e nel 1919 decide di trasferirsi a Torino con la speranza di ottenere un posto di lavoro alla Fiat, anche grazie a una lettera di presentazione rilasciata lì dal colonnello comandante del reggimento nel quale aveva prestato servizio durante la guerra. Dopo alterne vicende, non sempre a lui favorevoli, finalmente riesce ad accedere all'organico dell'azienda automobilistica piemontese, ben presto dimostrando buone doti di pilota per le avventurose competizioni dell'epoca. Debutta in corsa nella Parma Poggio di Berceto, ottenendo il quarto posto. La sua carriera proseguirà per un decennio, tra alti e bassi, tra esaltanti vittorie, in vero non moltissime, e cocenti sconfitte. E proprio alla sua attività di pilota è legata alla nascita del cavallino rampante, il simbolo che lo ha reso famoso nel mondo. La mamma di Enzo Ferrari era originaria di Lugo di Romagna, cittadina che diede i Natali anche a Francesco Baracca, medaglia d'oro al valor militare, pilota di aeroplani da caccia, asso della Prima Guerra Mondiale con 34 vittorie in combattimenti aerei, caduto sulle pendici del Montello il 19 giugno 1918. Il Maggiore Baracca era un ufficiale di cavalleria e prima di conseguire il brevetto di pilota di aeroplano e di transitare nei battaglioni aviatori del regio esercito, l'aeronautica militare infatti sarà costituita come arma autonoma solo il 28 marzo 1923, aveva prestato servizio nel secondo reggimento cavalleria Piemonte Reale, reparto con oltre due secoli di storia e con significative tradizioni, essendo stato fondato il 23 luglio 1692. Lo stemma araldico di Piemonte Reale include un cavallo rampante di colore argento al campo rosso, colore distintivo del reggimento. A testimonianza del proprio legame affettivo con l'arma di provenienza, Baracca, appena iniziata la sua attività aerea, fece dipingere sulla fusoliera del proprio velivolo il 2 numero ordinale del reggimento e un cavallino rampante rosso, a richiamo del colore che tale reggimento distingueva. Solo successivamente, e da seguito dell'acquisto di un cavallo morello al quale ben presto si affezionò, Baracca mutò il colore del cavallino rampante da rosso in nero, racchiudendolo all'interno di una nuvola bianca e rappresentando così, in maniera simbolica, un cavaliere proteso nei cieli. Il 17 giugno 1923 Enzo Ferrari partecipò, vincendolo, al circuito del Savio, una importante corsa automobilistica che si correva sulle strade sterrate vicine a Ravenna. Alla competizione assistettero anche il conte Enrico e la contessa Paolina Baracca, genitori di Francesco, che entusiasmati dal coraggio e dall'ardimento manifestati dal giovane Ferrari, gli affidarono il simbolo glorioso del loro figliolo caduto, affinché lo portasse nuovamente nel lagone non più bellico ma sportivo. Enzo Ferrari accettò di buon grado il dono fattogli, ma trasformò leggermente l'emblema modificandolo in tre dettagli. Lo stemma Ferrari infatti ha il cavallino con la coda rivolta verso l'alto. Il fondo è giallo, colore del gonfalone della città di Modena ed è sormontato da una fascia tricolore. Di tale stemma ne esistono infine due versioni. La prima, di forma rettangolare, costituisce il marchio commerciale della casa automobilistica e compare su tutte le vetture costruite a Maranello. Esso, per intenderci, equivale alla stella a tre punte della Mercedes, ai quattro cerchi dell'Audi o al tridente della Maserati. La seconda, a forma di scudo con le lettere S ed F in carattere corsivo maiuscolo, è propria della scuderia Ferrari. A stretto rigore, essa dovrebbe essere apposto esclusivamente sulle vetture impiegate in corsa direttamente dalla casa madre. L'attività di Enzo Ferrari come pilota di automobili da corsa proseguì fino al 1929, anno in cui decise di ritirarsi dalle competizioni, a seguito sia delle pressanti richieste in tal senso rivoltegli dalla moglie Laura Garello, una bella ragazza torinese conosciuta durante la sua permanenza in quella città e con la quale, scandalosamente per quei tempi, aveva convissuto per quasi tre anni prima di sposarla, sia per le crescenti responsabilità familiari derivanti dalla nascita del figlio Dino, ma la passione per i motori non può essere cancellata con un colpo di spugna. A Modena, il 16 novembre 1929, unitamente ai tre sodali Alfredo ed Augusto Caniato e Ferruccio Testi, Enzo Ferrari sottoscrive davanti al notaio della Fontana l'atto costitutivo della società anonima Scuderia Ferrari. Tale atto verrà omologato dal Tribunale di Modena il 29 novembre successivo. La Scuderia Ferrari, con sede a Modena nello storico edificio industriale di Viale Trento e Trieste, inizia così la propria attività, con l'obiettivo di far gareggiare i soci e dei clienti esterni con vetture Alfa Romeo appositamente preparate per le competizioni. Il debutto ha luogo nella Mille Miglia del 1930 ed il primo successo viene conseguito il 15 giugno 1930 nella corsa Trieste-Opicina con Tazio Nuvolari alla guida. La prima apparizione del cavallino rampante sulle vetture della Scuderia avviene nel 1932 alla 24 ore di Spa ed accompagna la vittoria dei piloti Antonio Brivio e Eugenio Siena. Per ben due lustri, sino al 1938, le macchine della Scuderia Ferrari, pilotate dai più agguerriti campioni dell'epoca, Nuvolari, Varsi, Borzacchini, Caracciola, Ascari Padre, eccetera, colgono allori su tutti i circuiti, andando via via ad incrementare la stima, l'ammirazione ed il rispetto per l'uomo che capeggia e dirige con mano fermissima un organismo sportivo senza alcun dubbio di primo ordine e soprattutto vincente. I successi conseguiti fanno sì che nel 1938 Ferrari venga chiamato ad assumere il prestigioso incarico di direttore sportivo della squadra corse Alfa Romeo. In tale ruolo, e grazie alla collaborazione tecnica di Gioacchino Colombo, un ingegnere meccanico tanto geniale quanto innovativo, realizza una vettura mitica, l'Alfa 158, la famosissima Alfetta. Ricordiamoci questa macchina, perché la ritroveremo più avanti in una posizione di assoluto rilievo. La collaborazione di Ferrari con l'Alfa Romeo, però, durò assai poco. Alla fine del 1939, infatti, a causa di dissapori interni con alcuni dirigenti della Casa del Portello, spesso originati dal suo carattere che definire difficile è solo eufemistico, Ferrari rescisse il contratto accettando nel contempo la clausola di non realizzare per i successivi 4 anni automobili contraddistinte dal proprio nome. Ma il divorzo dall'Alfa Romeo, di certo, non placò lo spirito di iniziativa e l'animo imprenditoriale di Ferrari. Egli, infatti, fondò immediatamente la Autoavio Costruzioni, una azienda metalmeccanica dedita alla produzione di macchine utensili e specificatamente rettificatrici oleodinamiche. Astutamente aggirando, almeno in parte, l'impegno di non concorrenza assunto con l'Alfa Romeo, sotto il marchio di questa nuova azienda, Ferrari avviò lo studio e la progettazione di una vettura sportiva, una Spider con motore di 8 cilindri di 1.500 cm3 di cilindrata, denominata 815. Ne vennero prodotti due esemplari, che parteciparono alla Mille Miglia del 1940, l'unica edizione svolta sul circuito Brescia-Cremona-Brescia, da percorrere più volte, in luogo del classico Brescia-Roma-Brescia, e che furono costrette però al ritiro per noie meccaniche. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale pose fine ad ogni attività sportiva e l'auto avio Costruzioni si dedicò esclusivamente alla sua attività primaria. Nella primavera del 1943 le officine furono trasferite da Modena a Maranello, un paesino poco distante dal capoluogo, dove Ferrari aveva acquistato un vasto appezzamento di terreno ed aveva fatto costruire un primo capannone industriale. A seguito di un bombardamento che danneggiò notevolmente la fabbrica, nel 1944 la produzione venne interrotta ed i macchinari furono nascosti nei fienili delle cascine presenti nella zona.